Ciao qui è Gio, di Seduzione Attrazione. Nel video di oggi parliamo di come, a volte, se le cose non vanno come tu ti aspetti, a fronte di un rimorchio, un tentato rimorchio, quello che è, la colpa non necessariamente è tua, ma è la ragazza. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione, ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo, dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Ok, quindi dicevamo che oggi parliamo del fatto che spesso, o meglio, a volte, molto meglio dire a volte, la colpa non sarà tua, ma non sarà della ragazza, mentre tutto sommato quello che noi facciamo è tendere a darci sempre la colpa dell'insuccesso in un'interazione. E nonostante questo sia un buon mindset a livello tecnico da tenere, perché ci porta a voler sempre migliorare dal punto di vista tecnico, purtroppo non è esattamente la realtà. Nel senso che a volte sarà colpa della ragazza e in questo video andiamo un po' a capire il perché, per come, eccetera, eccetera. Quindi dicevamo che molto spesso la colpa è la loro. E non mi fraintendere, quando dico molto spesso, in realtà dico molto spesso se tu sei tecnicamente capace. Nel senso che... molto tecnicamente capace, mettiamola così. Nel senso che se dovessi scommettere perché un'interazione non va qualora ci sia un potenziale interesse da ambo le parti e dovessi puntare a una parte sullo studente di seduzione versus puntare sulla ragazza, punterei, se dovessi addossare una colpa, sempre sullo studente di seduzione. Perché so che in realtà le ragazze, in maniera statistica quantomeno, sono socialmente più competenti, più calibrate di quanto non siano gli uomini. Questo non è necessariamente una regola, ma è una regola statisticamente valida. E quanto detto, sicuramente ancora più valore se dall'altro lato ci sono gli studenti di seduzione. Senza nulla volerli togliere, ma ragazzi, dobbiamo iniziare a capire effettivamente le cose come stanno, perché altrimenti non possiamo migliorare. La dimostrazione del fatto che in realtà le ragazze sono più socialmente competenti di moltissimi uomini, proprio in questi giorni forse tu sai che sto seguendo otto studenti privati e uno di questi mi dice, cazzo, sembra che le ragazze abbiano fatto il corso con te, perché utilizzano in maniera inconscia, più o meno conscia, insomma, quello che è a fronte di tante situazioni in cui sono state approcciate, del fatto che sono bombardate di continuo, eccetera, 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 quindi sono più schillate di un uomo, sicuramente più dello studente di seduzione medio. Ora, posto che tu sia tecnicamente capace, quando dico tecnicamente capace, la realtà è che molto probabilmente parlo dell'1% di quelli che sono gli studenti di seduzione, perché la grossa verità è che moltissimi di voi non entreranno mai in azione o non ne faranno mai a sufficienza, quindi dobbiamo dire le cose come stanno, ma facciamo finta che tu sia tecnicamente capace. Bisogna anche iniziare nell'ottica di, a mettersi nell'ottica di, in questo caso, che la colpa può essere anche della donna in alcuni casi. Voi non pensiate che le donne siano tutti questi geni, così come ci sono persone tra i maschi che sono socialmente inette, ci sono anche persone fra le donne che sono allo stesso modo socialmente inette. Questa è la verità, solo che da uomini spesso ci si tende ad addossarsi tutta la colpa. Ripeto, è un buon mindset dal punto di vista tecnico, ma non sempre un mindset reale e realistico. In ogni caso, questo non è un video in cui voglio stare come fanno certi mentecatti della seduzione, che si lamentano delle donne, si lamentano di come si comportano, si lamentano che se la tirano, si lamentano che se non hai abbastanza followers poi lei non ti caga, cioè tutte idiozie tecniche, come al solito. Questo è un video semplicemente per andare a capire laddove dobbiamo filtrare le donne in modo da massimizzare quelle che sono le nostre chance di andare a letto con più donne possibile. E perché ti dico questo? Il motivo è molto molto semplice. Quando tu, voi che guardate questo video, inizierete a farvi il culo, che molto probabilmente per molti di voi non è ora, ma quando inizierete, mi auguro oggi, noterete, almeno nel momento in cui diventate un po' tecnicamente capaci, che tutti noi abbiamo a disposizione un X numero di slot settimanali da dedicare a uscite con ragazze, appuntamenti, eccetera eccetera. Quindi, a differenza del rimorchio in cui possiamo approcciare, riapprocciare, riapprocciare ancora con una certa costanza, dobbiamo diventare selettivi, o almeno porcelo come obiettivo, che non sarà un obiettivo quando iniziate, però un obiettivo che dobbiamo avere in un medio termine, perlomeno. Dobbiamo quindi portare in questi slot settimanali di appuntamenti che noi abbiamo, donne che ci garantiscono la maggior chance statistica possibile di arrivare al sesso. E ora qua, fammi dire una cosa non politically correct. Questo, specie se tu diventi bravo ed inizi ad andare avanti con l'età e quindi magari inizi ad uscire con ragazze un po' più grandi, un po' più in là con l'età, diventa particolarmente vero, perché politically correct o non politically correct, molto spesso se ragazze, specie belle ragazze, di una certa età, intorno ai 30, diciamo, nessuno se le prese, a volte un motivo francamente c'è. Non voglio far polemica, però questa è una realtà statistica che voi incontrerete sul campo. Quindi bisogna fare attenzione a filtrare quelle che sono le donne socialmente inette. Quindi quali sono alcuni esempi di donne socialmente inette che vogliamo filtrare e levarci quanto prima possibile dal funnel? Donne timide, donne troppo insicure che hanno una maggior possibilità di tirar pacco all'ultimo minuto, donne che cerchi di convincere ad uscire con te ma con le quali non si instaura immediatamente quel calore naturale che si dovrebbe instaurare fra un uomo e una donna a tratti l'uno dall'altra, donne che trovi in discoteca e non sono avvezze al contatto fisico, no buono, donne che non sono avvezze al contatto fisico in generale, donne che vestono in maniera completamente asessuale, donne che si comportano in maniera assolutamente asessuale, eccetera eccetera, questo te lo mostrerà l'esperienza sul campo. Però tu devi tenere a mente che ciò nonostante ci sono delle donne che per il tuo bene devi filtrare, ok? Quello che succederà se tu applico questa roba sul campo è che al di là di quelli che sono i consigli tecnici che io ti do, tu imparerai attraverso quella che è la tua esperienza a vedere quelli che sono i semafoi rossi per così dire che ti fanno capire che questa roba non sta portando nessuna parte e quindi non vale quello che è il tuo tempo. Tutto questo, cioè il filtrare donne che già inizialmente ci danno dei forti segnali di semaforo rosso per così dire, è molto importante perché in realtà anche con donne che non ci danno questi segnali di solito ci troviamo ad avere a che fare con due grossi problemi che possono già di per sé sporcare il suo funnel e quindi se già ci sono questi due problemi che sono per dire fisiologici e a questi ne aggiungiamo altri, la cosa diventa troppo una rottura di coglioni. Quindi il primo problema è dato che comunque le donne sono soggette a cambi di umore, sono fatti così, un momento gli piace, un momento dopo si dimenticano della tua esistenza. Questa è la realtà e quindi per questo l'unica cosa che puoi fare è mitigare il problema così come una persona che esce di casa con la pioggia mitica il problema portando l'ombrello, ma non è che si libera della pioggia. Tu quindi puoi solo mitigare il problema aumentando quello che è il volume di lavoro e quindi avendo sempre contatti caldi in quello che è il tuo funnel, ok? Dall'approccio al sesso. Il secondo problema invece è il problema dato da quella che è la tua competizione e su questo è un qualcosa che ci puoi far poco adesso. Cosa significa ci puoi far poco adesso? Che è un qualcosa che puoi mitigare come problema nel lungo periodo aumentando quelle che sono le tue schizze tecniche e aumentando quello che il tuo valore uomo, come ti spiego meglio in Insider Mind. Se ti interessa ti lascio il link in descrizione. Quindi lavorando su questi due parametri, la skills tecniche e il valore uomo, riesci a mitigare il problema della competizione ma mai a eliminarlo del tutto. Quindi questo è un qualcosa che fa parte dei giochi. Però questi due problemi sono fisiologici. Umore delle donne, competizione. Gli altri dobbiamo cercare di andarli a levare, screenare, filtrare il più possibile perché altrimenti vanno a sporcare quelli che sono i nostri risultati in termini qualitativi e numerici. Ora, se tu sei un super principiante, un principiante non sempre, o meglio non puoi, mettiamola così, permetterti di filtrare. Quindi all'inizio cercherai un po' di spremere il sangue da air up e mettiamola così. Però quando inizia a migliorare tecnicamente dobbiamo necessariamente metterci a ragionare in un'ottica di filtro. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.